A conti fatti, nel disegno di legge per il bilancio 2022, approvato nella giornata di giovedì dal governo, le misure riguardanti la scuola sono poche. Quella che fa già discutere molto riguarda il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, finalizzato alla valorizzazione della professionalità docente. Si tratta di 260 milioni che potrebbero essere utilizzati anche per incrementare gli stipendi dei docenti. Nel pomeriggio di giovedì l'articolo in questione, il 102, ha tenuto con il fiato sospeso sindacati e mondo politico perché in una prima versione era previsto che nel fondo potessero confluire anche le risorse della carta del docente, 383 milioni di euro per la precisione, carta di cui si prevedeva l'eliminazione. Le reazioni della politica sono state immediate. Vittoria Casa per il Movimento 5 Stelle e Rosa Maria Di Giorgi per il PD sono intervenute subito, protestando vivacemente. D'altronde, stando alle nostre informazioni, neppure il ministro Bianchi sarebbe stato molto contento di questa decisione. In serata, dopo il Consiglio dei Ministri, la nuova bozza della legge ha rimesso le cose a posto. La carta resta e continuerà ad essere finanziata come sempre. Per capire poi se e come i 260 milioni inseriti adesso nella legge di bilancio per il fondo del miglioramento dell'offerta formativa potranno essere utilizzati per incrementare gli stipendi degli insegnanti, bisognerà aspettare l'apertura del tavolo contrattuale. Per il resto, nella legge finanziaria si parla della istituzione di un apposito organico di docenti di scienze motorie da inserire come specialisti nella scuola primaria. Il progetto dovrebbe prendere avvio a partire dal settembre del 2022 per le classi quinte e anche per le classi quarte a partire dal 2023. L'organico sarà aggiuntivo rispetto a quello già esistente e quindi il docente di educazione motoria potrà intervenire in compresenza con l'altro docente di classe. Altra misura importante riguarda il fondo unico per l'edilizia scolastica che viene integrato con altri 200 milioni di euro. Infine c'è uno specifico articolo della legge che consente di prorogare fino al termine delle lezioni gli incarichi a tempo determinato dei cosiddetti docenti covid che allo stato attuale dovrebbero invece concludersi il 30 dicembre del 2021. Ma su questo si segnala già la protesta della ex ministra Lucia Azzolina secondo cui la misura dovrebbe essere estesa anche al personale ATA. Per parte sua il ministro Bianchi ricorda che ci saranno anche 40 milioni aggiuntivi per il fondo di funzionamento delle scuole e che si prevede oltre un miliardo per asili nido e scuole dell'infanzia. Per il momento è bene precisarlo stiamo parlando di un disegno di legge che nei prossimi giorni dovrà iniziare il suo percorso parlamentare e che quindi potrebbe subire ancora modifiche più o meno significative. Quindi su questo tema noi ovviamente continueremo a tenervi informati perché seguiremo passo passo l'iter legislativo della legge di bilancio quindi seguiteci su questo canale ma anche nel nostro portale www.tecnicadellascuola.it. Mandateci i vostri commenti, le vostre osservazioni, le vostre lettere noi come al solito ne daremo conto.